Turisti, tornatevene a casa, rifugiati, benvenuti. A Palma de Mallorca, una delle più frequentate località balneari di tutta la Spagna, monta l'ostilità nei confronti dei vacanzieri. Sono sempre di più, infatti, gli abitanti dell'isola che si lamentano dei disagi causati dal flusso di visitatori e dall'impatto che questo produce sui servizi pubblici, dal trasporto locale all'acqua potabile. Mallorca registra in una stagione oltre 13 milioni di arrivi all'aeroporto dell'isola e il turismo costituisce il 45% del prodotto interno regionale.